Ecco, rispetto a questi precedenti, che sono ben rappresentati da un governo di tecnocrati che hanno sempre fatto mano contraria rispetto a quello che era necessario per la politica economica italiana, noi siamo preoccupati e quindi presentiamo un programma che vogliamo costruire con il meglio della società italiana per offrire una netta alternativa al modello europeo, rispetto al quale non sento nessuna autocritica. Anzi, c'è questa convergenza, questa corsa a dire siamo i veteroeuropeisti, siamo quelli che vogliono il moderatismo tradizionale.